buongiorno ragazzi sono Michele allora come anticipato faccio un breve video per far appunto vedere a tanti che hanno trovato il problema della così chiamata caviglia ballerina per capirci la caviglia che non riesce a stare stabile in questa maniera mentre invece per questo problema che molti avevano potete andare a vedere sul canale che ho che c'è come mettere le placchette la modifica ok di questo non ne parliamo più ha una cosa prima che mi dimentico che non c'entra con quello che vi dirò dopo ma poi me lo dimentico e non riesco a dirlo attenzione ragazzi a tutte le calamite io ne ho colate già due perché su diversi stivali ne ho colate già due quindi guardate le plastichine dietro toccate un po con l'unghia perché molte proprio si staccano quindi perdetevi ma la calamita attaccate perdete poi e sarebbe un peccato il pezzettino qua argentato passiamo subito a quello che volevo dirvi allora ragazzi il problema della caviglia ballerina non è che ci sono diverse possibilità per cui è ballerina ce n'è soltanto una questo spazio qua cioè questo ok aspettate un attimo questo qua da qua a qua allora questo spazio non date per scontato come in realtà dovrebbe essere ma non è così non date per scontato che l'azienda produttrice li ha fatti tutti uguali non è così questo spazio quando avete la caviglia ballerina è perché supera i 9 10 mm il centimetro provate a misurare e vedete che è quello il problema per cui la vite questa non potrà mai tirare una lamiera di questo spessore di 2 3 mm capite questa è molto resistente quindi cosa dovete fare semplicemente questo adesso io vi prendo il calibro digitale per farvi vedere la misura perché se vi mettessi quello in legno fate fatica magari a vedere scambiate il centimetro con i 7 mm ok comunque 0 vedete vado a vedere 7 8 mm non di più questo è 7 mm ragazzi non deve essere 7 3 7 7 7 dai 7 agli 8 mm se scendete sotto i 6 poi non entrano le due rondelle di plastica dentro adesso vi faccio vedere praticamente quando poi andrete a inserire questo lo spazio deve essere minimo ok minimo comunque la larghezza ve l'ho già data io per cui non vi potete sbagliare 7 7 e mezzo 7 mm ok come fare per stringerlo io vi dico come ho fatto io poi chiunque di voi riesca ad avere un metodo migliore e beh ragazzi fatelo ci mancherebbe allora io ho preso due mollette per non metterlo straccio prendete due mollette legno plastica legno serve ancora meglio perché non scivolano e adesso sposto un po' l'inquadratura ragazzi ve lo faccio vedere poi perché se no c'è il telefonino che mi da fastidio io prendo una pinza del genere non prendete le pinze piccole perché resistente il metallo prendete una pinza del genere e la posizionate così aspettate vi mettono l'inquadratura di nuovo ecco guardate aspettate ragazzi è molto semplice adesso mi è scappata perché non avevo regolato bene la grip chiaramente se avete la grip cioè questa pinza qui è meglio se non avete questa va bene qualsiasi altra pinza basta che non sia piccola perché sennò fate una fatica terribile ecco qua vedete non so se si vede ok così non rovinate le plastiche le plastiche scusa la vernice anche se coperte è un peccato rovinarla ragazzi va pinzato sopra e non mettetevi di fianco perché lavorerebbe solo un lato e lo rovinate sopra perché è molto più facile da stringere da sopra e poi mentre lo stringete mettete in mezzo questo ok quando vedete che siete quasi arrivati che avete un po' di gioco andate ancora un po' di più a schiacciare quasi a farlo toccare quasi a farlo toccare non andate a farlo toccare e poi rilasciate perché lui un po' torna indietro e poi controllate guardate lo spazio una volta fatta questa operazione chiaramente sganciate e rimontate il tutto ok adesso ve lo faccio vedere ma semplicemente per finire così il video ma è chiaro che non avete bisogno di guardarlo però insomma io faccio così per montarlo che è più semplice come avevo già fatto vedere nell'altro mettete questo così con l'indice sotto il dito sotto questo lo fate arrivare quasi qua a filo molto veloce vedete prendete questo lo calzate ecco fatto prendete quest'altro vedete non ci vuole tanto se c'è un metodo e poi adesso chiaramente avvito un attimo intanto non serve che vi riprendo mentre avvito sto solo avvitando così vi faccio vedere la fatica che si fa a muoverla la caviglia ed è così che deve essere poi per carità il modello è statico ragazzi lo sappiamo guardate se stringo non la muovo più eh se stringo non la muovo più cioè faccio fatica a muoverla devo garantirla un po' se no ok perfetto vedete quindi questo movimento ve l'avevo già fatto vedere l'altra volta come eliminarlo come renderlo sicuro perché la placchetta di plastica sotto non è idonea quello che per il quale è stata progettata progettata un ragazzo che ho anche commentato sul gruppo di wheel e wheel rider bellissimo gruppo ragazzi ve lo consiglio un ragazzo che ha fatto la modifica appunto l'ha fatta in maniera perfetta anche perché non è difficile assolutamente ragazzi e quindi evitate questo movimento che non deve che è più stabile così evitate il movimento ballerino diciamo e poi questa che vedevo che vi siete lamentati molti e solo per questo ragazzi dovete stringere i due spazi ok ragazzi altro mi sembra che non debba più dirvi nulla ho un altro da dirvi e basta buona giornata ragazzi ciao